si torna a san silo per fare altra beneficenza a chi da un po di tempo in campionato fa solo presenza incasso allo stadio quello delle grandi occasioni come succede sempre quando in provincia arrivano i campioni il povero di bala che prende tanti falli ma sono tutti per noi i primi cartellini gialli pianic su punizione ci porterebbe anche in vantaggio ma dopo tante discussioni viene annullato per un miraggio lo stadio esplode come per un gol all'ultimo minuto bergo mi spara sentenze ma dovrebbe restare muto per i gol di montari ancora ci sono pianti ma noi siamo diversi e dobbiamo guardare avanti passano i minuti e noi sbogliati e grigi lo gattelli con un gran gol lascia immobile il santo gigi la polvere delle bandiere che non sventolano da anni il campionato di nuovo bello pulito e senza inganni impariamo da questa sconfitta e ripartiamo forte come le palle di bonucci che dopo un calcio non si sono rotte dai forza fino alla fine ciao